L'incubo L'addetto permanente agli affari rurali dell'ufficio, Cunin, un giovane sulla Trentina, appena tornato da Pietroburgo nel suo borisovo, per prima cosa mandò un messo a cavallo a Sincovo in cerca del prete locale, padre Jakov Smirnov. Di lì a un cinque ore, padre Jakov comparve. Felicissimo di conoscervi, lo accolse in anticamera Cunin. È ormai un anno che vivo e presto servizio qui. È tempo, mi pare, che ci conosciamo, favorite. Ma tuttavia, come siete giovane, si meravigliò Cunin. Quanti anni avete? — Ventotto, disse padre Jakov, stringendo debolmente la mano a lui tesa, e non si sa perché arrossando. Cunin condusse il visitatore nel suo gabinetto e si mise ad esaminarlo. — Che faccia grossolana da donna di campagna, pensò. Infatti, nel viso di padre Jakov c'era moltissimo della donna di campagna. Il naso volto in su, le guance di un rosso vivo e gli occhi grandi, grigio-azzurri, con rare sopracciglia appena visibili. I capelli lunghi, rossizzi, secchi e lisci scendevano sulle spalle come bastoncelli diritti. I baffi cominciavano appena a prendere la forma di veri baffi maschili, e la barbetta apparteneva a quella specie di barbe affatto inutili che fra i seminalisti si chiama, chissà perché, pizzichino. Radarada, molto trasparente. Raviarla e pettinarla è impossibile. Si possono, tutt'al più, pizzicare. Tutta questa misera vegetazione era disposta irregolarmente a cespuglietti, come se padre Jakov, avendo avuto l'idea di truccarsi da prete e cominciato ad appiccicarsi la barba, fosse stato interrotto a metà dell'operazione. Indosso aveva una tonaca del color d'un caffè di cicoria debole, con grandi toppe su tutte e due i gomiti. Strano individuo, pensò Cunin, guardandogli le falde spruzzate di fango. Viene qui per la prima volta e non può vestirsi un po' più decentemente. Sedete, reverendo, cominciò egli più disinvolto che affabile, accostando alla tavola una poltrona. Sedete dunque, vi prego. Padre Jakov tossì nella mano, si lasciò cadere goffamente sull'orlo della poltrona e posò le palme sulle ginocchia. Piccolo di statura, col petto stretto, sudato e rosso in viso, egli fece a Cunin fin dai primi momenti la più sgradevole delle impressioni. In precedenza Cunin non aveva mai potuto pensare che in Russia ci fossero dei preti dall'aspetto così poco grave e così meschino, e nell'atteggiamento di padre Jakov, in quel tenere le palme sulle ginocchia e in quel sedere sull'orlo della poltrona, gli pareva discorgere mancanza di dignità e perfino servilismo. Io, reverendo, l'ho invitato a venire per una faccenda, incominciò Cunin arrovesciandosi sulla spalliera del seggiolone. Mi è toccato in sorte il grato dovere di aiutarvi in una vostra utile impresa. Si tratta di questo. E di ritorno da Pietroburgo mi son trovato sulla tavola una lettera del presidente della nobiltà. «Jegor Dmitrievich mi propone di prendere sotto il mio patronato la scuola parrocchiale che si apre da voi, a Sincovo. Io, reverendo, ne sono felicissimo, con tutta l'anima. Di più, anzi, accetto con entusiasmo questa proposta». Cunin se alzò e andò su e giù per il gabinetto. «Certo, è noto a Jegor Dmitrievich, e probabilmente anche a voi, che di grandi mezzi finanziari io non dispongo. La mia proprietà è ipotecata, e io vivo esclusivamente col mio stipendio di addetto permanente. Di conseguenza, sopra un forte aiuto non potete contare, ma tutto ciò che è il mio potere lo farò». «E quando, reverendo, pensate di aprire la scuola?» «Quando ci sarà il denaro?» rispose padre Iacov. «Ma adesso disponete di qualche provento?» «Quasi di nessuno. I contadini hanno stabilito in adunanza di pagare annualmente in ragione di trenta copeche per ogni anima maschile. Ma questa è solo una promessa, e per il primo avviamento occorrono perlomeno duecento rubli». «Già, purtroppo io adesso non ho questa somma», sospirò Cunin. «Nel viaggio ho speso tutto, e ho perfino fatto debiti. Su via, ne scogitiamo insieme qualche cosa». Cunin si mise a riflettere ad alta voce. Egli annunciava le sue considerazioni, e spiava la faccia di padre Iacov, cercandovi l'approvazione o il consenso. Ma quella faccia era impassibile e immobile, e non esprimeva nulla, fuorché un'impacciata timidezza e inquietudine. Guardandolo, si poteva pensare che Cunin parlasse di cose difficili, che padre Iacov non capiva e che ascoltava solo per educazione, temendo inoltre di vener colto in flagrante incomprensione. «Il ragazzo, come si vede, non è di quelli molto intelligenti», pensava Cunin, timido e scioccarello oltremisura. Si animò padre Iacov un poco e sorrise perfino, solo quando nel gabinetto entrò un domestico, portando su un vassoio due bicchieri di tè e una confettiera piena di croccanti. Egli prese il suo bicchiere e subito si mise a bere. «Non potremmo scrivere a sua eminenza», continuò a riflettere ad alta voce Cunin. «Già, a dire il vero, non è stata l'amministrazione locale. Non siamo stati noi, ma le superiori autorità ecclesiastiche a sollevare la questione delle scuole parrocchiali. Esse devono, in verità, anche indicarci i mezzi. Mi ricordo di aver letto che a questo scopo era stata perfino assegnata una certa somma. Voi ne sapete nulla?» Padre Iacov tanto sarà immerso nel tè che stava bevendo che non rispose subito a tale domanda. E gazzò su Cunin i suoi occhi grigio-azzurri. Pensò un poco e, come se poi si fosse rammentato della sua domanda, scosse negativamente il capo. Sul suo brutto viso si andava effondendo da un orecchio all'altro un'espressione di piacere e del più comune, più prosaico appetito. Egli beveva e assaporava ogni sorso. Dopo aver bevuto tutto fino all'ultima goccia, posò il bicchiere sulla tavola. Poi lo riprese, ne osservò il fondo e tornò a posarlo. L'espressione di piacere si dileguò dal suo viso. Poco dopo Cunin vide il suo visitatore prendere nella confettiara un croccante, staccarne un pezzetto coi denti, poi rigirarlo fra le mani e rapidamente ficcarselo in tasca. «Beh, questa poi non è proprio da sacerdote!» pensò Cunin stringendosi nelle spalle con aria schizzinosa. «Che cos'è? Avidità di pop o infantilismo?» Dopo aver lasciato che il visitatore vuotasse ancora un bicchiere di tè e accompagnatolo fino all'anticamera, Cunin si coricò sul sofà e si abbandonò tutto allo spiacevole sentimento ispiratogli dalla visita di padre Iacov. «Che uomo strano, selvaggio!» pensava. «Sudicio, sciatto, rozzo, stupido e di sicuro ubriacone!» «Dio mio, e questo è un sacerdote, un padre spirituale, un maestro del popolo!» Immagino quanta ironia deve esserci nella voce del diacono quando lo invoca prima di ogni messa. «Benedissi, monsignore!» «Bel monsignore! Un monsignore che non ha nemmeno un briciolo di dignità, maleducato, che si nasconde ai biscotti in tasca come uno scolaretto!» «Pah!» «Oh, signore!» Dove aveva gli occhi il vescovo quando consacrava sacerdote quest'uomo? «Per chi prendono il popolo se gli danno simili maestri?» «Quì si vogliono degli uomini che...» e Cunin si mise a meditare su come sarebbero dovuti essere i sacerdoti russi. «Se, per esempio, io fossi pop!» «Il pop istruito e chiama il suo mestiere può far molto! Qui da me già da un pezzo sarebbe stata aperta la scuola!» «E la predica?» «Se il pop è sincero e ispirato dall'amore per il suo ufficio, quali stupende, infiammanti prediche può fare!» Cunin chiuse gli occhi e prese mentalmente a comporre una predica. Poco dopo era seduto alla scrivania e rapidamente pigliava appunti. «Darò questo a quel rossino che lo legga in chiesa!» pensava. La domenica successiva di mattina Cunin andava a Sincovo per definire la questione della scuola e intanto conoscere la chiesa della quale si considerava parrocchiano. Nonostante l'impraticabilità delle strade, la mattina era magnifica. Il sole splendeva luminoso e solcava qua e là, coi suoi razzi, gli strati biancheggianti della neve attardatasi nei campi. La neve, nell'accomiatarsi dalla terra, aveva tali iridescenti di diamante che faceva male a guardare e accanto ad essa si affrettavano a verdeggiare le giovani semine autunnali. Le gracchie si livravano gravemente sopra la terra. Una gracchia volava, calava verso il suolo e prima di piantarsi saldamente sulle zampe, saltellava parecchie volte. La chiesa di legno alla quale arrivò Cunin in vettura era vetusta e grigia. Le colonnette del Pronao, che un tempo erano state dipinte di bianco, erano adesso affatto scrustate e somigliavano a due brutte stanghe di carro. L'immagine sopra la porta aveva l'aspetto di una macchia unita, scura, ma questa povertà commossa in tenerì Cunin. Chinati modestamente gli occhi, egli entrò nella chiesa e si fermò accanto alla porta. La funzione era appena cominciata. Il vecchio sagrestano, piegatosi ad arco, con sorda, inintellegibile voce tenorile, leggeva le ore. Padre Iacov, che ufficiava senza diacono, andava a ciegiù per la chiesa, incensando. Se non fosse stata l'umiltà di cui si era penetrato Cunin entrando nella misera chiesa, alla vista di padre Iacov avrebbe certamente sorriso. Il piccolo prete aveva indosso una pianeta sgualcita e lunga lunga e una certa stoffa gialla consumata. Il lembo inferiore della pianeta strascicava per terra. La chiesa non era piena. Cunin, nel guardare i parrocchiani, fu colpito nei primi momenti da una strana circostanza. Egli vide soltanto vecchi e bambini. Dov'era dunque la gente in età da lavoro? Dov'erano i giovani e gli uomini maturi? Ma dopo essere stato lì un poco, aver fissato più attentamente quei visi senili, Cunin si accorse di aver scambiato i giovani per vecchi. Del resto non attrezzò a questa illusione ottica particolare importanza. All'interno la chiesa era altrettanto vetusta e grigia come esternamente. Sull'iconostasi e sulle brune pareti non c'era nemmeno un posticino che il tempo non avesse affumicato e graffiato. Le finestre erano molte, ma il colorito generale appariva grigio e perciò nella chiesa regnava una semioscurità. Chi ha l'anima pura qui può pregare bene, pensava Cunin. Come in San Pietro a Roma colpisce la grandezza, così qui commuove questa umiltà e semplicità. Ma la sua disposizione alla preghiera se ne andò in fumo quando padre Iacov salì sull'altare e cominciò a dir messa. Data la sua età giovanile, essendo arrivato a sacerdote direttamente dai banchi del seminario, padre Iacov non aveva ancora avuto il tempo di acquistare un suo modo di ufficiare ben definito. Nel leggere aveva l'aria di scegliere la voce sulla quale doveva fermarsi, quella cuta di tenore o quella fiocca di basso. S'inchinava goffamente, camminava in fretta, apriva e chiudeva la porta santa con impeto. Il vecchio sagrestano evidentemente malato e sordo udiva male i finali delle preghiere per il che la cosa non andava disgiunta da piccoli malintesi. Padre Iacov non faceva in tempo a leggere quel che occorreva che già il sagrestano cantava la sua parte oppure padre Iacov aveva già finito da un pezzo e il vecchio tendeva l'orecchio dal lato dell'altare, stava in ascolto e taceva finché non lo si tirava per la falda. Il vecchio aveva una voce sorda, malatizia, asmatica, tremula e bisciola. Per completare la meschinità dell'insieme accompagnava il sagrestano un ragazzo molto piccolo la testa del quale appena si scorgeva di dietro la balaustrata del coro. Il ragazzo cantava con acuta stridura voce di soprano e pareva sforzarsi di non perdere il tono giusto. Kunin si fermò un poco, ascoltò, poi uscì fuori a fumare. Era ormai deluso e guardava quasi ostilmente la chiesa grigia. Si lamenta la decadenza del sentimento religioso nel popolo. Sospirò Sido, avrebbero dovuto scaffar qui un numero ancora più grande di simili preti. Kunin entrò poi ancora forse tre volte in chiesa, ma ogni volta si sentì fortemente attirato fuori all'aria fresca. Attesa la fine della messa, egli si avviò da padre Iacov. La casa del sacerdote all'esterno non si distingueva per nulla dalle isbe dei contadini. Solo la paglia sul tetto era più pianeggiante e alle finestre biancheggiavano delle tendine. Padre Iacov introdusse Kunin in una stanza piccola, chiara, dal pavimento di mattoni e con le pareti rivestite di una tapezzeria da poco prezzo. Nonostante qualche pretesa di lusso, come fotografie in cornice e un orologio da muro con un paio di forbici attaccate al pendolo. L'arredamento faceva impressione per la sua povertà. Guardando la mobilia si poteva pensare che padre Iacov andasse per i cortili e la cattasse a singoli capi. E in un posto gli avessero dato una tavola rotonda a tre gambe, in un altro uno sgabello, in un terzo una sedia dalla spalliera fortemente curvata all'indietro, in un quarto una sedia dalla spalliera dritta ma dal fondo incavato, e che in un quinto fossero stati così generosi da dargli un simulacro di divano, dalla spalliera piatta e dal piano a gratizzo. Questo simulacro era stato dipinto di un colore rosso scuro e mandava un forte odor di tinta. Kunin sulle prime voleva sedere su una delle seggiole ma ci ripensò e sedette sullo sgabello. «E' la prima volta che siete stato nel nostro tempio?» domandò padre Iacov appendendo il suo cappello a un grosso mostruoso chiodo. «Sì, la prima. Ecco, ecco qua, reverendo. Prima che veniamo al fatto, offritemi del tè perché ho la gola tutta secca». Padre Iacov batte gli occhi, fece un raschio e andò dietro il tramezzo. Si udì un bisbiglio. «Deve parlare con la popessa?» pensò Kunin. «Sarebbe interessante vedere com'è la popessa di questo rossino». Dopo un poco padre Iacov uscì di dietro il tramezzo, rosso in viso sudato e sforzandosi di sorridere sedette di fronte a Kunin sull'orlo del divano. «Prepareranno subito il samovar» disse senza guardare il suo ospite. «Dio mio! Non hanno ancora preparato il samovar» si sgomentò tra sese e Kunin. «Ora hai voglia di aspettare?» «Vi ho portato dissegli la minuta di una lettera che ho scritto per il vescovo. Ve la leggerò dopo il tè. Forse voi troverete qualcosa da aggiungere». «Bene!» Segue un silenzio. Padre Iacov sbirciò pavidamente verso il tramezzo. Si rabbiò i capelli e si soffiò il naso. «Tempo magnifico» dissegli. «Sì! Tra l'altro lessi ieri una cosa interessante. L'amministrazione distrettuale di Volsk ha stabilito di passare tutte le scuole al clero. È caratteristico!» Kunin si alzò, si mise a camminare sul pavimento di mattoni e cominciò ad esporre le sue considerazioni. «Questo è nulla» diceva, purché il clero sia all'altezza della sua missione e abbia chiara consapevolezza dei suoi compiti. «Per mia disgrazia conosco dei sacerdoti che per la loro levatura e le loro qualità morali non andrebbero bene nemmeno come scrivani militari nonché come i sacerdoti. È un cattivo maestro, convenitene, reccherà la scuola molto meno danno che un cattivo sacerdote». Kunin gettò uno sguardo a padre Iacov. Costui stava seduto tutto curvo pensando con impegno a qualche cosa e a quanto pareva non ascoltava l'ospite. «Lascia, vieni un po' qua», si udì una voce femminile di dietro il tramezzo. Padre Iacov si riscosse e andò dietro il tramezzo. Cominciò di nuovo un bisbiglio. Kunin fu preso da una gran voglia di tè. «Non starò qui ad aspettare il tè», pensò guardando all'orologio. «E poi sembra che qui io non sia affatto un ospite gradito. Il padron di casa non si è degnato di dir con me neanche una parola e non fa altro che starsene seduto e battere gli occhi». Kunin diede di piglio al cappello, attese il ritorno di padre Iacov e si accomiatò da lui. «Solo una mattina perduta per niente», si addirava per via. «E' un pezzo di legno, un ciocco. Della scuola si interessa come io della neve dell'anno scorso. No, con lui non combinerò nulla. Con lui non riusciremo a niente. Se il presidente della nobiltà sapesse che Pop c'è qui, non avrebbe fretta di brigare per la scuola. Bisogna innanzitutto darsi pensiero di un buon Pop e poi dopo della scuola». Kunin adesso quasi odiava padre Iacov. Quest'uomo, la sua pietosa, caricaturale figura nella lunga pianeta gualcita, la sua faccia da contadina, il suo modo di ufficiare, il suo tenor di vita e la sua impacciata ossequiosità da impiegato di cancelleria, offendevano quel piccolo residuo di sentimento religioso che rimaneva ancora nel petto di Kunin e viardeva in silenzio accanto alle altre favole insegnategli dalla bambinaia. Ma la freddezza era l'uncuranza con le quali aveva accolto la sincera, calorosa parte presa da Kunin a una sua propria faccenda erano difficili da sopportare per l'amor proprio. La sera di quello stesso giorno Kunin passeggiò a lungo per le stanze riflettendo, poi sedette risoluto alla scrivania e scrisse una lettera al vescovo. Dopo aver chiesto denari per la scuola e la benedizione egli tra l'altro espose con sincerità filialmente la sua opinione sul prete di Sincovo. È giovane scrisse non abbastanza evoluto conduce a quanto pare vita intemperante e in generale non soddisfa quelle esigenze che attraverso i secoli si sono formate nel popolo russo riguardo ai suoi pastori. Scritta questa lettera Kunin sospirò con sollievo e si coricò con la coscienza di aver fatto una buona azione. Il lunedì mattina mentre egli era ancora in letto gli fu annunciato l'arrivo di padre Iacov. D'altarsi non aveva voglia e fece dire che non era in casa. Il martedì partì per recarsi all'assemblea e tornato il sabato seppe dalla servitù che in sua assenza era venuto ogni giorno padre Iacov. Quanto gli sono piaciuti però i nei croccanti pensò Kunin. La domenica verso sera arrivò padre Iacov. Questa volta non solo le sue falde ma perfino il cappello era spruzzato di fango. Come già nella sua prima visita egli era rosso e sudato e sedette come quel giorno sull'orlo della poltrona. Kunin risolse di non mettersi a parlare della scuola e di non buttare via le perle. Io vi ho portato Pavel Mikhailovich un piccolo elenco di accessori scolastici cominciò padre Iacov. Vi ringrazio ma ad ogni cosa si vedeva che padre Iacov non era venuto per il piccolo elenco. Tutta la sua figura esprimeva un forte turbamento ma nello stesso tempo gli stava scritta in viso la risolutezza come di un uomo subitamente illuminato da un'idea. E gli ardeva dal desiderio di dire qualcosa di importante e di oltremodo urgente e adesso si sforzava di vincere la sua timidezza. Ma perché sta zitto si stizziva Kunin ha piantato le tende qui e io non ho mica il tempo di gingillarmi con lui. Per dissipare in qualche modo il disagio del suo silenzio e nascondere la lotta che avveniva in lui il sacerdote cominciò a sorridere impacciato e questo sorriso lungo spremuto a forza attraverso il sudore e il rossone del viso che non si accordava con lo sguardo fisso degli occhi grigio-azzurri obbligò Kunin a voltarsi in là. Egli provò disgusto. Scusate reverendo devo andar via disse. Padre Iacov si riscosse come un uomo assonnato che sia stato colpito e senza smettere di sorridere cominciò turbato a incrociare le falde della sua zimarra. Con tutta l'avversione che sentiva per quell'uomo Kunin ne ebbe ad un tratto pietà e volle raddolcire la sua durezza. Vi prego reverendo un'altra volta disse e per commiato ho una preghiera da farvi. Qui l'altro giorno mi sono sentito ispirato sapete e ho scritto due prediche e sottopongo al vostro esame se andranno bene leggetele dal pulpito. Bene disse padre Iacov coprendo con la palma le prediche di Kunin che stavano sulla tavola le prenderò. Dopo aver atteso un po' ed essersi fatto piccino continuando a incrociare la zimarra egli improvvisamente cessò di sorridere impacciato e alzò risoluto la testa. Pavel Mikhailovich disse cercando visibilmente di parlare con voce forte e distinta più cosa volete ho sentito che voi avete creduto bene di licenziare il vostro scrivano e e che adesso ne cercate un altro sì e voi avete da raccomandarmi qualcuno io vedete io non potreste dare questo posto a me ma forse che voi lasciate il sacerdozio domandò Kunin stupito no no disse in fretta padre Iacov chissà perché impallidendo e tremando in tutto il corpo io me ne guardi se avete dei dubbi allora non occorre non occorre io vedete questo lo farai a tempo perso per aumentare i miei guadagni non occorre non inquietatevi i guadagni ma gli è che io pago allo scrivano soltanto venti rubli al mese oh signore ma io anche dieci ne prenderai mormorò padre Iacov guardandosi attorno anche dieci sono sufficienti voi voi siete stupiti tutti lo sono avido bramoso pop dove mai mette il denaro io stesso lo sento che sono avido e mi castigo mi condanno mi vergogno di guardare la gente negli occhi a voi Pavel Mikhailovich lo dirò in coscienza chiamo il vero dio a testimonio padre Iacov tirò il fiato e seguitò vi avevo preparato strada facendo una confessione completa ma ho dimenticato tutto adesso non starò a scegliere le parole io ricevo all'anno dalla parrocchia centocinquanta rubli e tutti si domandano con meraviglia dove lo metta questo denaro ma voi spiegherò tutto in coscienza quaranta rubli all'anno di sborso per mio fratello Piotr all'istituto ecclesiastico l'ha espesato di tutto ma carta e penne sono a mio carico ah credo credo beh a che tutto questo e con insi schernì con la mano sentendo un terribile peso per quella franchezza del visitatore e non sapendo come sfuggire all'uccichio peagnucoloso dei suoi occhi poi non ho ancora finito di pagare il concistoro per il mio posto per il posto mi hanno addebitato duecento rubli da pagare in ragione di dieci al mese giudicate adesso che cosa mi rimane ah sì oltre a questo devo dare a padre Avram perlomeno tre rubli al mese a che padre Avram a padre Avram che era prete a Sincovo prima di me lo privarono del posto per debolezza e lui continua a vivere a Sincovo dove potrebbe andarsi a cacciare chi gli darebbe da mangiare anche se è vecchio gli occorre pur del carbone e del pane e un vestito non posso ammettere io che lui col suo grado vada a chiedere la carità farei peccato io se accadesse qualcosa farei peccato lui si è indebitato con tutti e io farei peccato se non pagassi per lui padre Iacov si slanciò dal suo posto e guardando come folle il pavimento prese a camminare da un angolo all'altro Dio mio Dio mio si mise a borbottare ora alzando le braccia ora abbassandole salvaci signore e facci grazia e perché dovevi assumerti un simile alto ufficio se sei di poca fede e non hai forze non c'è limite alla mia disperazione salvami regina celeste calmatevi reverendo disse Kunin mi ha sfinito la fame Pavel Mikhailovich continuò padre Iacov scusatemi generosamente ma non ho più forze so che se io chiedessi se mi inchinassi ognuno mi aiuterebbe ma non posso ha vergogna come potrei chiedere ai contadini voi siete in servizio qui e vedete voi stesso quale mano si leverà per chiedere qualcosa al misero e chiedere a chi è un po' più ricco ai proprietari non posso è orgoglio mi vergogno padre Iacov fece un gesto di sconforto e si grattò nervosamente in testa con tutte e due le mani mi vergogno Dio come mi vergogno non posso soffrire orgoglioso che sono che la gente veda la mia povertà quando voi mi faceste visita non avevo più te affatto Pavel Mikhailovich nemmeno più un briciolo ce n'era ma l'orgoglio mi impedì di confessarvelo mi vergogno del mio vestito di queste toppe ecco delle mie pianete mi vergogno della mia fame sta forse bene l'orgoglio in un sacerdote padre Iacov si fermò in mezzo al gabinetto e come non si accorgesse della presenza di Cunì si mise a ragionare con se stesso beh mettiamo io riuscirò a sopportare la fame e l'onta ma ho anche moglie o signore e l'ho presa di buona famiglia non è abituata al lavoro è delicata avvezza al tè e ai panini bianchi e alle lenzuola in casa dei genitori suonava il pianoforte è giovane non ha ancora vent'anni vorrebbe scommetto e agghiendarsi e divertirsi un poco e andare in visita ma in casa mia è peggio di una cuoca qualsiasi mi vergogno di mostrarla per via Dio mio Dio mio la sua sola gioia è che io le porti tornando dal visitare qualcuno delle mele o qualche croccante padre Iacov tornò a grattarsi in testa con tutte e due le mani e finisce che tra noi non c'è amore ma pietà non posso vederla senza provare compassione e quali cose o signore succedono al mondo tali cose che se si scrivessero nei giornali la gente non crederebbe e quando avrà fine tutto questo basta reverendo quasi gridò con in spaventato dal suo tono perché guardar la vita con occhi così tetri scusate generosamente Pavel Mikhailovich mormorò padre Iacov come ebbro scusate tutte queste sono cose vane e voi non badateci solo che io accuso me stesso e sempre mi accuserò mi accuserò padre Iacov si guardò attorno e bisbigliò l'altro giorno di buon mattino me ne vado da Sincovo a Luchkovo guardo sulla riva sta una donna e fa qualche cosa mi avvicino di più e non credo ai miei occhi che orrore se ne sta lì la moglie del dottore di Ivan Sergej e risciacqua la biancheria moglie di un dottore e ha finito gli studi in collegio dunque perché la gente non vedesse aveva spiato il momento per alzarsi di buon'ora di allontanarsi di una versa dal villaggio invincibile orgoglio quando vide che l'ero vicino e mi ero accorto della sua povertà arrossi tutta io mi confusi mi spaventai corsi verso di lei e volevo aiutarla ma lei mi nascondeva la biancheria temendo che potessi vedere le sue camicie strappate tutto questo sembra perfino inverosimile disse Kunin mettendosi a sedere e guardando quasi sgomento la faccia pallida di padre Iacov precisamente inverosimile non è mai accaduto Pavel Mikhailovich che le mogli dei dottori lavassero la biancheria al fiume in nessun paese succede questo io come pastore padre spirituale non avrei dovuto permetterglielo ma che cosa potevo fare io stesso anzi cerco il destro di farmi curare da suo marito per nulla giustamente avete creduto di definire tutto ciò inverosimile non si crede propri occhi durante la messa sapete mi capita di gettare un'occhiata dall'altare e quando vedo il mio pubblico l'affamato Avram e mia moglie e quando mi ricordo della moglie del dottore di come per l'acqua fredda le si siano illividite le mani allora lo credete mi dimentico di tutto e sto lì come un imbecille privo di sensi fino a che lo scaccino non mi chiama è un orrore padre Iacov riprese a camminare oh signore Gesù ed egli agitò le braccia santi intercessori persino dir messa non posso voi ecco mi parlate della scuola e io come un pezzo di legno non capisco nulla e non penso che al cibo persin davanti all'altare del resto che dico mai si riprese padre Iacov voi dovete partire perdonatemi ho detto questo così scusate Kunin in silenzio strinse la mano di padre Iacov lo accompagnò fino all'anticamera e tornato nel suo gabinetto si fermò davanti a una finestra e gli vide come padre Iacov uscì dalla casa si calcò giù sul capo il suo cappello rossiccio a larga tesa e ad agio a testa china come vergognoso della sua franchezza si incamminò e il suo cavallo non lo si vede pensò Kunin di pensare che il prete in tutti quei giorni era andato da lui a piedi Kunin aveva paura fino a Sinkovo c'erano sette o ad otto verste e sulla strada il fango era tale da non cavarne i piedi poi Kunin vide il cocchiere Andriei e il ragazzo Paramon saltando attraverso le pozze e spruzzando padre Iacov di fango correre verso di lui per riceverne la benedizione padre Iacov si tolse il cappello e benedisse lentamente Andriei poi benedisse e accarezzò sul capo il ragazzo Kunin si passò la mano sugli occhi e gli parve che nel farciò la sua mano si fosse inumidita si scostò dalla finestra e con occhi annebbiati fece il giro della stanza nella quale gli pareva di sentire ancora una voce timida soffocata gettò un'occhiata sulla tavola per fortuna padre Iacov si era dimenticato nella fretta di prender seco le sue prediche Kunin balzò verso di esse le fece a pezzetti e con disgusto le scaraventò sotto la tavola e io non sapevo gemette cadendo sul sofà io che già da oltre un anno presto servizio qui come addetto permanente come conciliatore onorario come membro del consiglio scolastico cieco bamboccio uomo fatuo che sei su presto ad aiutarli presto e si rigirava penosamente si serrava le tempi e tendeva il suo spirito il venti del mese riceverò lo stipendio di duecento rubli con un pretesto plausibile darò qualcosa a lui e alla moglie del dottore lui lo chiamerò a celebrare un tedeum e per il dottore fingerò di ammalarmi in tal modo non offenderò il loro orgoglio anche Abraham aiuterò egli faceva sulle dita il conto del suo denaro e aveva paura di confessare a se stesso che coi duecento rubli gli sarebbero bastati appena per pagare il fattore la servitù il contadino che portava la carne senza volerlo gli toccò rammentarsi di quel non lontano passato in cui aveva insensatamente sperperato le sostanze paterne quando ancora sbarbatello ventenne donava alle prostitute ventagli di prezzo pagava il vetturino Cusma dieci rubli al giorno e per vanità portava dei regali alle attrici ah come adesso avrebbero fatto comodo tutti quei biglietti da un rublo o da tre da dieci rubli buttati di qua e di là padre Abraham spende per mangiare solo tre rubli al mese pensava Kunin con un rublo la popessa può farsi una camicia e la moglie del dottore prendersi una lavandaia ma io tuttavia gli aiuterò gli aiuterò senza fallo a questo punto Kunin si ricordò improvvisamente della denuncia che aveva scritto al vescovo e si sentì tutto raggrinciare come per una ventata inattesa di freddo questo ricordo ricolmò tutta l'anima di un senso di opprimente vergogna di fronte a se stessa e di fronte all'invisibile verità così cominciò e terminò il sincero sforzo di utile attività da parte di uno di quegli uomini che hanno buone intenzioni ma sono un po' troppo sazi e non sanno ragionare in attività è un'есità di un'esità di un'esità che ha invito Grazie a tutti